Stavolta prima ancora degli studenti a dover passare un esame sono state le scuole. Il via al nuovo anno in classe è stato uno slalom tra Green Pass e altre norme da rispettare per prevenire il Covid, cui si aggiungono le difficoltà tradizionali che precedono sempre il nuovo anno scolastico. Insomma, un esame in materia organizzativa che una delle scuole superiori più grandi di Pistoia, l'Istituto Einaudi, sia perplesso che per iscritti, ha superato. Abbiamo sistemato in maniera che ci siano due turni. Un turno entra dalle 8 alle 11 e un altro turno entra dalle 9 alle 12. La prossima settimana faremo quattro ore e entreremo scaglionati, però facendo tutti 8-mezzogiorno, fino ad arrivare all'orario definitivo. Sempre un po' scaglionati, ovviamente, per evitare assembramenti. Il Green Pass come sta andando? Sta andando molto bene. La procedura ancora del Ministero funziona molto bene. Tutte le mattine si fa un controllo e segnala, eventualmente, in rosso i docenti che non hanno il Green Pass. Va controllato continuamente perché poi, se il docente fa il tampone, viene verde e quindi può accedere. Quindi funziona molto bene. Va controllata, ma, insomma, è veramente fatta bene. Insomma, in tempo reale si riesce a tenere la situazione sotto controllo. Sperando, ovviamente, che non succeda, ma ci fosse un caso di contagio da Covid? Che procedura sarà seguita? Abbiamo i referenti Covid e seguiremo il protocollo. Naturalmente andrà fatta un po' di quarantena. In quel caso vedremo un po' di organizzarci con la data. Ma, insomma, per il momento è tutto a posto e stiamo cercando in ogni modo di evitare la data. Però seguiremo il protocollo. Si spera non succeda. C'è un protocollo e quindi lo seguiremo. Per voi, il via dell'anno scolastico, com'è stato quest'anno? È stato molto positivo perché, insomma, i ragazzi, si è visto, avevano voglia di venire, erano contenti. Tra l'altro abbiamo questo nuovo indirizzo dell'odonto tecnico, è partito molto bene. Quindi, insomma, per ora siamo molto fiduciosi, ecco, siamo contenti, sì. Per rivedere i ragazzi soprattutto, insomma, siamo molto contenti, sì.